Ho ho ho, è la vigilia di Natale nella casa del bambino in giallo e noi siamo pronti per un nuovo capitolo gelida neve sul pelo cupo come la notte un amico e vicino nella nera pupilla che tutto inghiotte un osservatore dell'ombra. Oggi è Natale! Oh che bello! E finalmente anche qui nella casa del nostro terribile e infame bambino cattivo ci saranno dei giochi e delle feste in questo capitolo speciale di Natale. Dov'è il mio piccolo pirrillino? Eccolo qui! Davanti al camminetto della televisione! Ma ti stai divertendo! La vigilia di Natale! Preparati la cena di Natale, metti il bambino sul seggiorone. No problemo, lo farò subito, vediamo un po' come hanno conciato casa però prima di tutto. Ghirlande! È ancora un po' presto per Natale ma lo spirito natalizio è già dappertutto albero di Natale! Avete già fatto l'albero di Natale? Ditemi come l'avete fatto, è bello! È più bello di quello del bambino giallo? Speriamo di sì perché il suo non è terribile però potrebbe essere più decorato. Anche fuori hanno messo le ghirlande sulle porte che bello! E qui? Oh tutto quanto gli stick di caramelle! E qui? Oh l'estintore di Natale! Babbo Natale sarà così contento di spruzzarlo sui biscotti? Sì che bello! Va bene allora bimbo mio adesso mi dispiace però purtroppo avevamo anche un sacco di giocattoli vero vero ma non è adesso il momento di giocare adesso è il momento di andare sul seggiolone piccoletto! Sì perché il papalaionio non ti vuole più e allora nel cesso dritto giù dallo sciacquone ci fai proprio tu! Sì! Dov'è il tuo seggiolone? Eccolo qui dai! Ecco qui! Mettiti! Fermo eh! Ah! Oh sei caduto! Oh come! Ah che brutta sfortuna! Aspetta che ti rimetto bene! Ecco qui adesso! Allè! Oh sei caduto un'altra volta! Orca miseria! Non l'avrei mai fatto apposta! Ecco qui! Aspetta che adesso è con il seggiolone! Oh però è impossibile! Non ci riesco! Non ci va nel seggiolone! Oh era era di fieca! Gli piaceva allora lo voleva fare apposta di cadere! Erca purchetta eh! Adesso stai fermo qui che io vado a prendere il tacchino nel frigo! Sì! Che a tutti noi ci solletica il barluzzo! Questo è il cesso! Non è il frigo! Aspetta che papà si dimentica sempre! La disposizione di questa bella casa! Uh! Decorare! Non è ancora ora di decorare! Ma presto sarà ora di decorare questa bella casa! Tacchi... Questo è un tacchinello preistorico! Guarda che bello! Tutto teccio teccio! Mmm! Mmm! Un bel tacchino per pranzo! O per cena! La cena di Natale! Sembra un enorme sedere! Mi dissocio! Questo tacchino è veramente volgare! Veramente volgare! Mettiamo il tacchino in forno! Mettiamo il bambino in forno! Eh! Che cosa ne dici? Aspetta aspetta aspetta! Allora apro il forno! Prendo il bambino! Eh! Bambino in giallo! Tu sei un infame! Io lo so che fai un sacco di cattiveria! Ti metto il forno! Fermo eh! Entra! Bravo! Così! Chiudiamo! Ah! Ma che paura! Signifugo! Ah! Ridi! L'ha fatto divertire il gioco di Natale! Dai ti rimetto lì! Scusa eh! Non mi perseguitare in i sogni! Ti prego! Ti prego! Era uno scherzo! Non ti volevo davvero cuocere! Non guardarmi con que... con quegli occhi satanati! Che sei altro! Ci penso io adesso! Tacchino! Tacchino! Dobbiamo fare il tacchino! Ecco qui! Inforniamo il tacchino! Chiudiamo! Ah! Una! Sentite già! Anusate! Mmm! Che buon odore di arrosto! Oh! Finito? Quanto ci vuole? È lungo! Ah! Giustamente! Perché... Beh! Ci vuole il tempo che ci vuole! Anche io non devo essere frettoloso! Invece? Chiudiamo la porta! Non si sa mai che... Arrivano gente brutta da fuori! Si imbucano e vogliono il tacchino! Eh! Mangiatevi il vostro! Aggiungiamo le decorazioni! Infatti mi sembrava spoglio a me prima! E lo era! Bisogna continuare a decorarlo! Ah! Una pallina di Natale qui! Una pallina di Natale lì! Una pallina di Natale per te! Piccolo bimbo! Vieni a ballar con me! Ale! Una pallina! Anche voi! Di Natale per te! Oh yeah! Un pisello... Che cos'è questo? Vabbè! Un pinolo di Natale per te! E la pallina per me! E la pallina per tua mamma! E la pallina per tua sorella! E la pallina per nonna! E la pallina per zia! E la palli... Perché si è rotta? Cos'è successo? Arca miseria! Eh! Si rompono! Attento! Ti scassa la carruzza! Prendi la stella in soffita! Ah! Giustamente! Io avrei messo qualche altra pallina di Natale! Anche perché la canzona mi stava iniziando a piacere! E potevo continuare a cantarla! Vero non fa niente! Andiamoci! Vado a prendere la stella di Natale per gli chiedere! Tu fermo lì eh! Piccolo cederino! Ole! Allora! Ha detto in soffita! Però io ho un'occhiattuccia in giro! La darei! Anche perché voi sapete che ogni volta che aggiornano dei bebì e luci sempre qualche chicca segreta nascosta! E anche sicuramente oggi ce ne sarà qualcuna eh! Vediamo qui! Ci sono dei numeri di telefono, dei libri e dei disegni che non c'erano prima! Non mi pare di aver mai visto queste cose! Qua c'è il ciuccio di emergenza che ci ricordiamo benissimo! E basta però! Mi pare che altre cose nuove non ce ne siano! È mezzanotte! Quindi giustamente è l'ora precisa per iniziare il cenone! Anzi! No! In realtà no! A mezzanotte si è già quasi che bel finito eh! Vediamo! La soffita dovrebbe essere qua! E qui dovrebbe anche esserci! Mi ricordo questa era la zona del finale del precedente capitolo che abbiamo giocato insieme no? Ci dovrebbe essere anche esatto quel quadro gigante! Che questa volta però è tipo un pacco regalo! Mi pare di capire eh! Suppongo che dovremmo vederlo sarà tipo presto! Quindi è troppo presto! Dovremmo vederlo dopo questo regalo! Questo è sempre un po' inquietante questa zona eh! Va bene! Prendo la stella allora eh! Grazie mille! Gentile! Gentile! Io non aspetto altro che preparare quel buon tacchino! Sì sì salgo la scala! Aspetta la stella non è che l'ho lasciata sopra no? No ce l'ho ancora! Sì la stella! E qui? La chiave dei segreti! Che cos'è stato questo rumore? Eh? La chiave dei segreti! Che cos'è la chiave dei segreti? Cosa aprirà la chiave dei segreti? La cameretta segreta del bambino? Tu sei ancora al posto tuo? Bravo! Bravo! Sorridente! Felice! Per il Natale! E sicuramente ci sarà anche qualche regalo demoniaco per te lo sai! Eh sì eh! Mettiamo la stella! Che è stato? Il tacchino è andato a fuoco! Oh mio Dio! Che fuoco! Spegni tutto! Oh mio Dio! Ehi! Ma sei stato tu? Dove? Brutto pargolo del demonio! Sei stato tu eh! A esplodere il mio tacchino! Però credo sia cotto eh! Vabbè! Una cottura esplosiva! Tipo quello che mette il sale così! Non avete presente? Noi abbiamo messo la bomba così! Vabbè! Mettiamo il tacchino qui! Oh! Guardate! Gordon Ramsay direbbe che questo qui è un piatto sopraffino ed è bellissimo! Ed è pieno di goduria! Questo se tu lo affetti piano piano capito? Ti metti lì e fai una fetta alla volta capito? E tagli e tagli e è gustoso questo tacchino di Natale! Ah! Trova il bambino! Pezzo di me... Brutto di sgrave! Ma infa... Cioè! Che schifoso! Ti sei scofanato il mio tacchino? Il mio tacchino perfetto? Tutto? In più hai anche cagato? E poi hai lasciato i resti? Ma io ti giuro adesso ti butto dal balcone! No io ti scarico nel cesso! Cioè poi sei tutto cagato? Sei tutto scagato? Perché ti sei mangiato tutto il tacchino? Sei un infame! Ti scarico nel cesso! Dai! Vai nel cesso! No 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 no! No no no! Dentro ci devi andare! Aspetta che... Ecco! No non voglio... Aspetta! Vai! Molla! Ecco qua! Dentro ci devi andare! Ti devo infilare dentro il cesso! Deciso! Basta! Non ti voglio vedere più! Vai dentro! Dentro il cesso! Donna se ti piglio! Vai dentro! To! Ah! Sì! Ah! Ma! Di nuovo qui! Che palle! Proprio! Eh! Non te ne vai mai eh! Bruto bimbo maledetto! Va bene va bene va bene! Allora ti cambio! Eh! Mettiti qui! Mi raccomando adesso! Troviamo l'abito di... Ah! Giusto! Eh! Certo! Perché devi diventare un piccolo elfo di Babbo Natale tu eh! Devi diventare tutto verde col cappellino! Sì! Sì! Ti piace! Va bene! Ti prendo subitissimo! Però sei cagato ancora! Non dovrei prima... Togliere il pannolino cagato? Cioè per me? A me non me ne frega proprio eh! Dico per il bene della famiglia! Ma poi non abbiamo nessuno da invitare! Non lo so! Qualche zia che possa tenere il bambino! E noi magari ce ne andiamo di casa e ci dimentichiamo di questa vita! No eh! Non è possibile! Eh vabbè! Ci saranno sicuramente anche degli altri segreti che mi sto perdendo eh! Però! Dobbiamo trovare l'albero... L'abito! Ah! Eccolo qua! Ma solo il cappellino abbiamo? Sarà triste il bambino eh! Dirà... E dov'è il resto? Perché mi hai dato solo il cappellino? Io volevo tutto l'abitino e non è giusto! Oddio! Che brutta vita che ho! Adesso ammazzerò tutti! Sì! Ah mi ricordo qui che avevamo visto le varie favole degli animali! Vi ricordate? Bella roba sì! Allora sei pronto bimbo? Ti devo mettere questo bel vestito! Questo bel vestito! Aspetta però! Che cos'è questo? Ah! Giusto! Giusto! Era l'ultimo regalo del dottore che noi non avevamo ancora sbloccato! Perché dovevamo liberare altri quattro gatti e non l'avevamo fatto! Però in ogni caso c'è anche un regalo per voi a questo Natale! Lo sapete? Ed è il mio libro dei mostri! Che è un regalo di Lion invece che del dottore! E dentro ci sono 28 creature mostruose da me! Create con illustrazioni giganti, bellissime, identikit! Se voi volete sapere dove si trovano, se siete abbastanza coraggiosi da affrontarle! Tutte queste 28 creature vi aspettano nel mio libro dei mostri! Lo trovate in tutte le librerie d'Italia! Anche su Amazon, su internet, link in descrizione! Mi raccomando! Non perdetevelo! Deve essere al primo posto della vostra lista di Natale! Vi giuro che rimarrete estasiati da queste storie! Allora bambino, per te non c'è il libro dei mostri! Ma se fai da bravo potrei leggerti una storia eh! Adesso ti indosso il cappellino eh! Ecco qui! Oh sì! La magia del Natale! A Natale sono tutti più buoni no? Anche tu? Piccolo diavolo! Vuoi andare sul seggiolone? Andiamo sul seggiolone! Andiamo con le renne e Babbo Natale! Andiamo a fare regali ai bambini buoni! E non a te! Che sei il figlio di Satanasso! Maledetto infame! Mettiti qui! Ecco! E adesso si mangia! I resti del tacchino che questo infame si è già sguverato! Prepara un'altra cena di Natale! E infatti! Beh! Guarda qua! Cioè! Devo buttare adesso io! Almeno ti potevi mangiare anche le ossa eh! Tanto! Cioè! Eh we! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ti spaventa la carcassa del tacchino! L'hai fatta tu eh! Cioè voglio dire! Sei un imbecille! No! Non la devo buttare nel cesto! Aspetta! Aspetta! Che fa così con le mani? Cosa c'hai? Eh! Ho dovuto buttare! Cosa c'è? Che c'hai? Cosa c'hai? Mi fai paura quando fai così! Mi mette una certa inquietudine! Perché questo non si sa mai che cosa gli piglia! Che c'è? Cosa c'è? Vabbè! Io ti ignoro eh! Io vado avanti per la mia strada! Tu stai... Guarda ti porto... Tiè! Gioca! Oh! Allora! Prendi un altro tacchino dal frigo! Oh meno male! Non me lo ricordavo così il frigo! Che è successo? Eh? T'è zitto! Oh! Basta! Mi fai rompere le cose! Piangi! Ti tiro i piatti! Zitto! Oh! Ma glieli scasso tutti quanti in testa! Basta! Oh! Sei terribile! Eh! Wee! 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 Cosa ti devo dire? Non lo so! Questo è un tacchino! Era un tacchino! Cosa è successo ancora? Posso tornare indietro? No! C'è il buio! No! Non andiamo! Non ho le palle di neve! Ah che bello! Oh! Che divertimento! Vabbè me ne porto una eh! La chiamerò... Oddio! No! Che cacchio siete? Francesca la palla di neve! Aiutami! Eh! Digraziato! E chi sei? Eh! Questo è un mostro eh ragazzi! Eh! Zubaldo il pupazzo di neve! Con il pisello alto! Eh! Muori! Maledetto! Lo st... Madonna! Che versi da mostro che faceva! Per fortuna l'abbiamo sterminato! Zubaldo! E tutte le sue avventure! Avete notato che il dottore ci segue sempre? Il pupazzino del dottore! Questo è un grande... È un grande portafortuna eh! Eh! La storia di questo gioco non è ancora stata rivelata del tutto! Ma io ho grandi aspettative per quando sarà terminata del tutto! Zubaldo! Vedo ancora palle di neve! E chi è che ha bevuto qua? Eh! Che è tutto pieno di bottiglie! Ho visto il tacchino eh! Voglio solo vedere che cosa... Ah! Ho capito! Prima dobbiamo prendere il tacchino e poi usciamo da quella porta! Ok! Tacchino! C'è anche l'olio che mitli! Il ristorante cinese! Però lasciamolo stare! E oggi non è giornata! Ok! Permesso? Permesso? Tutto bene? Chiudo eh! Qual è casa nostra questa? Oh beh! Guarda bambino mio! Adesso poso un attimo il tacchino per terra! Sei veramente anche a Natale! Un ramarro bruttissimo! Io non ho parole guarda! Sei terribile! Papà ha dovuto entrare dentro il frigorifero mentre tu piangevi! Stai zitto? Stai zitto? Tu piangevi papà ha dovuto entrare dentro il frigo a combattere con Zubaldo e il pupazzo di neve col pisello alto! Devi stare... Guarda! Ti spacco il piatto del tacchino in testa eh! Guarda! Veramente! Potevi andare a stare con i nonni? No! Perché li avrai mangiati! Devo mettere un altro tacchino in forno adesso! Guarda te! Che vita! Che vita del papà! To! Oh! Adesso controlliamo il bambino! Dove è andato? Dove è andato questo piccolo ramarro eh! Trova la manovella del pupazzo a molla! Ma cosa? Perché? Perché? Cosa vuol dire? È il giocattolo che lo ingrifa il pupazzo a molla? Non ho mai visto un pupazzo a molla! È una novità! Cos'è questo libro? Soli? Gemelli? E sinistre lune? Gemelli? Non è che ce ne sono due di bambini no? Carica il pupazzo a molla! E dov'è il pupazzo a molla? Non è neanche qui? Forse è al piano di sotto? C'è sempre il dottore eh! Comunque! Pupazzo a molla! Pupazzo a molla! Pupazzo a molla! Qua dentro non c'è! Ma che è? Boxi... Boxi Boo! Quello di Poppy Playtime! Comunque! Credo sia questo! Ma è uguale a Boxi Boo eh! Effettivamente! Mi viene un po'... Non è che qualcuno ha copiato... Proviamo a girare la manovella! Vediamo un po' se è simile eh! Giro! Dai! Se mi salta addosso però mi giro le balle eh! Io ve lo dico! C'ho un po' ansia! Mmm! Non mi piacciono questi pupazzi a molla a me eh! Faccio venire un po' di ansia! Ah! Maledetto disgraziato! No! Sei tu! Sei che c'è! Papà ti scudisce adesso! È il giorno dell'essere picchiati oggi! Il Natale delle botte! Mettiti lì! Ora di scena! Oh! Allora tu adesso hai mangiato adesso è per tutti e due però eh! Che purtroppo tu sei tutta la mia famiglia bambino! Che triste vita eh! Cioè tutta la nostra famiglia! E questo bambino disgraziato! Infame! Eh! Non abbiamo nessun altro con cui passare il Natale! Vabbè! Ecco il tacchino! Non te lo mangiare tutto eh! Mi siedo anch'io eh! Per la cena! Lontano da lui! Più lontano possibile! Oh! Oh che bello! Con tutti i peluchis! No! Che schifo! Sul mio piatto i pannolini di sto cagone! No! Perché devi fare pure a Natale? Cioè! Guarda! Ma che cattivo che è però eh! Brutto maiale! E non la cena di Natale l'ha rovinata questo! E dov'è tutto quanto? Ai regali! Oh! La magia del Natale! Anche lui! Anche lui è diventato buono! Lo sapevo che c'era speranza! L'ho mandato dalle suore a scuola eh! E lo hanno redento! Bello bello! Allora! Vabbè però il tacchino io ne ero ingolosito! E lo volevo mangiare io il tacchino! Maledetto! Eh! Vabbè! Dai! Apriamo questi regali! Qual è per papà eh! Qual è per papà? Tutti per papà! Oh! Che bello! E per te? Nulla! Perché fai schifo eh! Lo so! Lo so! Dai! Apriamo questi! Una! Ma questo è per te però! E me la tengo io! Una macchinina! Che bello! Oh! Hai visto! Bellissimo! Però prima di aprire i regali papà gli viene un'idea! Vi ricordate quel regalo che c'era in soffitta? Non è che poco poco adesso possiamo aprire anche quello? Che cacchio sta... Cosa cavolo è stato? Cos'è stato? Cos'era? Sto a fare qualcosa che non dovevo fare eh! Si era accesa la tv eh raga! Sicuro! Però non abbiamo visto che cosa c'era sopra! Madonna! Già questo posto inquietante poco poco! Fammi vedere! Forse dice ancora che è presto! È presto! È ancora presto! Ok! Che paura! Però quel rumore non era presto per farlo quello! Era il momento giusto eh! Mamma mia! Che brutto perso! Ok! Dobbiamo aprire anche gli altri regali! Va bene! Papà è tornato eh! È una palla! Hai visto? È bellissima! Guarda come rimbalza! Tipo è bellissima! È tipo inarrestabile! Bella! Poi? È una pistola! Speriamo che ti uccida! Aspetta! Non ti arrabbiare eh papà eh! No no! Si è arrabbiato un pochino! Eh! Non ti piace eh! Ti fa arrabbiare! Eh! Però è divertente per papà questa! Spara i cosi nerf! Eh! Eh! No! Non ti diverti! Papà sì! Dai beh! Basta dai! Continuiamo dopo con la pistola! No scherzo! Eh! Eh! Adesso raccogliamo l'aeroplanino! Eh! Eh! Ma che bello! Che bello! Hai visto eh! Bello! Adesso però abbiamo aperto i regali! Questa nottata di Natale è stata fenomenale! Adesso è arrivato il momento di dormire! Che speriamo che arriva Krampus! Che no! Il Natale è cattivo e ti uccide! Ecco qui! Vai lì! Dormi! Buonanotte! Cosa c'è? Effettivamente ti ho buttato un po' storto eh! Vuoi un peluche? Quale vuoi? Questo? Il coniglio? Eh? No! Il coniglio fa schifo! Va bene! Il gatto? Aspetta! No! Il gatto fa schifo! La pecora? Eh? No neanche! Eh! Il dottore! Ah! La fine dei conti dunque! Il dottore era il peluche giusto! Ecco perché continuava ad apparire di continuo! Bene! Bene! Chiudiamo la porta! E ora guardiamo la tv sul divano! Non è che devo guardare questa no? No! Questa è ancora spenta! Va bene! Torniamo sul divano e guardiamo la televisione! E godiamoci questo bel camino! Eh? Questo gustoso tepore davanti al fuoco boys and girls! Godiamolo! Ah! Il Natale! Cosa sta... Il gatto nero! Quello della fine del precedente capitolo! Vuoi vedere che va in soffitta ad aprire quel regalo? Mi sa di sì! Secondo me il gatto nero è un po' tipo alla nostra salvezza! Che sta tipo cercando di redimerci dalla presenza di questo demone bambino! Ti vedo gatto! Ti seguo! Ti seguo! Ti seguo! Ti seguo! Sono con te! E sta andando di sopra! Ve lo dicevo io! Ok! Non facciamoci inquietare! Sicuramente ora possiamo aprire il pacco regalo finale! Infatti c'è anche il gatto davanti! Ok! Preparatevi perché qua c'è il finale importante! Il gatto entra dentro! Sembra essere una specie di... Una stanza tipo un castello forse! Ma noi non possiamo forse! Sono stati risucchiati dei regali! Non so da dove sono usciti! E c'è lui dietro di noi! Però noi alla fine siamo stati risucchiati insieme al gatto! Secondo me il bambino voleva fermarci dall'essere risucchiati! I regali sono disponibili in tutti i capitoli! Ok! Va bene! E questi sono tipo easter egg finali in realtà! Borca miseria! Beh! È finito così! Se avete capito qualcosa in più di me su questo filmato finale fatemelo sapere! Per oggi però ci fermiamo! Grazie di aver guardato il video! E Lion Out!